Affrontare e risolvere il regolamento costitutivo dei comitati di quartiere con annesso bilancio partecipato è stato uno degli argomenti trattati nel corso della riunione tra il coordinamento dei comitati di quartiere di Gera e i componenti della Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio ha lavorato sul regolamento che disciplina il funzionamento dei comitati di quartiere e che di fatto è un regolamento rivoluzionario. Ovviamente come Commissione Bilancio siamo intervenuti sulle parti relativi alla contabilità, a quello che può incidere sul bilancio comunale. In particolare abbiamo emendato e lavorato con i comitati di quartiere, tant'è che l'incontro è stato fatto assieme ai rappresentanti dei comitati di quartiere proprio per agevolare la realizzazione della democrazia partecipata. Il lavoro è stato fatto sia sulla parte che prevedeva la possibilità di assegnare immobili comunali ai comitati di quartiere, possibilità che viene riconosciuto al regolamento e che noi abbiamo avallato purché questo venga mantenuto nell'onere della valutazione. E poi un punto veramente molto importante è stato quello della democrazia partecipata e delle forme del bilancio partecipato, dove almeno il 2% di un fondo specifico dovrà essere destinato a incentivare la democrazia partecipata. Al termine dell'incontro la bozza di regolamento è stata esitata favorevolmente dalla stessa Commissione ed approvata all'unanimità da tutti i presidenti dei comitati di quartiere spontanei presenti all'incontro. Adesso l'esame del testo passa alla Commissione Affari Generali, la quale avrà il compito di valutare il testo nella sua interezza ed esprimere un parere di conformità in relazione alle normative vigenti. Un rapporto di collaborazione importante e forte con tutti i comitati di quartiere al fine di andare al di là degli attuali comitati di quartiere, quindi verso il superamento di questi organi e definire all'interno del Consiglio Comunale condistituzionalizzare tramite un regolamento nuove aree urbane che faranno la interfaccia tra la città, il Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale. Il presidente della Commissione Bilancio, Salvatore Scerra, si è dichiarato soddisfatto dell'incontro riconoscendo che il dibattito democratico scaturito è stato abbastanza proficuo perché ha consentito di chiarire importanti aspetti relativi sia alla quota percentuale da destinare ai vari quartieri, sia a quelli connessi all'assegnazione dei locali da destinare alle aree urbane. Anche il presidente del coordinamento dei comitati di quartiere, Carmelo Tandurella, ha manifestato la propria soddisfazione riconoscendo l'importanza di questo primo importante passaggio ed auspicando un'altrettanta rapida disamina ed approvazione anche da parte della Commissione Affari Generali.